Grazie. Grazie per essere venuti stasera e soprattutto la contea che ci ha reso disponibile il luogo per la serata. Sardegna Solidale per aver dato un contributo e l'AVS per aver dato il sostegno per fare questa serata. Ringraziamo anche i nostri sponsor e i gruppi che sono venuti stasera. Sera ragazzi. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.